E' a due anni dall'approvazione della legge sulla dopo di noi che la fondazione Riconoscersi Onlus di Arezzo ha deciso di organizzare un incontro per fare il punto della situazione sui progetti attuati ma soprattutto su quelli futuri un incontro che si è svolto all'interno degli spazi della casa diritta di Arezzo. L'applicazione della legge 112 ha trovato avvio nella provincia di Arezzo con una serie di progetti divisi uno per zona distretto dell'ASL e quindi è in corso la fase di preparazione e informazione alle famiglie, sono partiti dei laboratori e sono in fase di progettazione quasi definitiva le strutture per l'accoglienza effettiva di quelli che poi dovranno risiedere o vorranno risiedere all'interno di questo. Dobbiamo continuare a lavorare perché si superi la logica del servizio in quanto tale e si vada verso una ipotesi di progetto di vita individuale in modo tale che ogni persona disabile possa davvero vedere realizzato un principio di fondo che è quello persona con disabilità uguale persona che ha diritto, che la società gli rimuova gli impedimenti che non gli fanno godere appieno i diritti che sono identici a quelle persone non disabili. L'obiettivo della legge del dopo di noi è favorire il benessere e la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, lo stesso che da anni sta portando avanti nel Grossetano la fondazione Il Sole Ollus che gestisce una residenza sanitaria per disabili ed un centro diurno. L'obiettivo vero è sviluppare per ogni tipologia di disabilità e quindi sulle caratteristiche di ogni persona le possibilità di essere autonomi il più possibile, naturalmente avendo presente i limiti che questo comporta.